E anche oggi hai scelto il posto sbagliato, davanti a un supermercato se lo guadagneressi molto di più delle mie moletile. Non mi interessa. Sei tu quello strano, che avviene ogni giorno e il cinema è chiuso. Siete, neanche mio nonno ha tenuto le porte di questo cinema chiuse per così tanto tempo, sotto le bombe. Ma mio padre comunque avrebbe fatto come me. Sarebbe venuto qua ogni giorno per tenerlo vivo come se fosse aperto. Che fritto. Senti, me lo fai almeno oggi il favore di entrare? Che film puoi vedere? Qualsiasi, Alberto. Qualsiasi. Sicuro? Basta che è lungo, lungo. Lungo assai. Ho deciso, da stasera se vuoi puoi restare qui. Al sicuro. Il cinema per me sono proprietà collettiva. Io più che il proprietario mi sento il custode. E ora, tocca a te. Francesco, un cinema vuoto a chi serve? Ma vuoi lasciare il tuo cinema a un barbone? Io veramente lo sto lasciando a uno spettatore. Ma vuoi. Trec, moé. L'ocommerce vuoto. E' poco mejor. Ma vuoi, la vuoto? Be', la vuoto. Ho давайqui Orti ma 140 dollar. Essai il monate? Lenostioni stai. Ma vuoto sì! He fenomeno. Grazie a tutti